Mi lavo i capelli o no? Li ho già lavati ieri Vabbè dai me li lavo Shampoo per capelli ricci o per capelli lisci? Eh, dipende da come mi faccio la piega E la piega dipende da come mi vesto Ok, ciabattine ce l'abbiamo Spugnetta personale, chiaramente Detergente intimo fondamentale E poi all'appello dovrebbero mancare rasoio Scrub, spazzola, shampoo specifico, maschera e balsamo nutriente Sì, abbiamo tutto Mette pasta distratta la tua voce La tv sulle mani Tra la radio e il telefono Il suono e l'alto addio Detergente Perché esisto? Vorrei essere più alta A quella stronza le dovevo rispondere così Quando la persona è niente, l'offesa è zero E invece me ne sono stata zitta con una cretina Che figura di merda mi sono fatta con Marco Però sono passati tre anni Magari si è dimenticato Speriamo Ma che cos'è questa spugna? Che schifo! E' questi capelli! Mamma mia che capelli rovinati! Mamma mia che cos'ho un po' dietro Oddio! Ma com'è possibile che perda tutti questi capelli? Lasciatemi in pace di odio! La mia vita non è merda! Non ho amici! Non ho fidanzata! Nessuno mi vuole! Odio tutti! Aaaaaah! Maschera o non maschera Questo è il problema Oh Romeo, Romeo Perché sei tu Romeo? Al mio segnale Scatenate l'inferno! Questa magari no Fa pensare al mio ex Leviamola subito Facciamo Facciamo Basta lo sono stancato Mettiamo un po' di reggaeton La musica italiana Ah, un po' rotto Mamma? Mamma sei tu? Ah ma sarà stato un gatto Ma io non ho un gatto Oddio forse un ladro Vuole rubare E li troverà me Qui dentro E mi ucciderà Lo sapevo che prima o poi Ti saresti accanto di me Del mio amore E da anni Ti aspetto questo momento Ti amo Aaaaaah! È gelata! Oddio! Aaaaaah! Adesso è troppo calda! Non ho proprio gli acchi st'acqua! Aaaaaah! Ma è l'uomo fredda! Mamma! Ho dimenticato l'accappatoio Me lo porti? Ma ancora? E ho capito Me lo dimentico sempre Me lo puoi portare Che sto morendo di freddo? Allora Ma Dove l'ho messa quella cremata? Questa Ok? 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 Ed eccoci giunti alla fine del video Meno male Così almeno posso asciugarmi E da tre ore che sono in doccia Solo per voi Per girare questo video Fatemi sapere Quali di queste tipologie siete E Se vi è piaciuto il video Lasciatelo per like Se non l'avete ancora fatto Iscrivetevi al canale E cliccate sulla campanella Che trovate Vicino al tasto di iscrizione Per ricevere Una notifica Ogni volta che pubblico un video E Infine Seguitevi su tutti gli altri social Facebook Instagram E musical.ly Io adoro E vado ad asciugarmi Ciao Ciao Ciao